incontro di questa breve rassegna che abbiamo organizzato con Philosophy Kitchen, tre lezioni quindi sul trascendentale, perché abbiamo deciso come redazione di partire da questo tema, perché abbiamo pensato fosse innanzitutto un motivo di confronto con altri gruppi di ricerca che conosciamo e con cui collaboriamo da tempo e poi perché è un tema per noi fondamentale come rivista, come progetto diciamo filosofico e quindi come diciamo inaugurazione di questa serie di mini rassegne ci sembrava quello più adatto. La rassegna sarà così diciamo organizzata e composta da tre lezioni, quella di oggi tenuta dal professor Rametta che mi accingerò adesso a presentare, poi il 13 maggio ci sarà la presentazione del professor D'Alfonso che qui ci sta seguendo e sarà invece presentato da Alice Giarolo che anche qui le saluto e poi infine il 3 giugno ci sarà la lezione finale tenuta dal professor Leghista e sarà presentata da Veronica Calvedagna che con me fa parte della redazione di Philosophy Kitchen. Se non sbaglio Veronica dovrei aver detto tutto rispetto alla rassegna, le modalità con cui partecipare sono quelle che abbiamo indicato, chi è già presente nella stanza Zoom ci sarà il link per i prossimi incontri come è accaduto per questo e quindi direi che possiamo iniziare. Presento il professor Rametta, il professor Rametta è docente di storia della filosofia contemporanea a Padova e a lungo si è occupato e si occupa tuttora delle problematiche connesse alla nozione di trascendentale tant'è che dirige un gruppo di ricerca da diversi anni che prende il nome di Metamorfosi del Trascendentale che tra l'altro trovate anche su Facebook, hanno una pagina e è anche un sito in cui si possono seguire le loro attività e dal quale sono stati pubblicati due volumi di studio sul trascendentale intitolati Metamorfosi del Trascendentale a cura di Gretano Rametta e a cui hanno partecipato con saggi diversi studiosi sul tema del trascendentale. Li trovate per l'editore Cleup di Padova. Elenco giusto come si fa di rito alcuni testi del professor Rametta che appunto è uno studioso principalmente di Fichte di cui segnalo l'invito alla lettura, all'introduzione, mettiamola così, di Carocci, uscita nel 2013. Segnalo anche un libro che indica invece i suoi interessi più recenti sulla filosofia e la nozione trascendentale in Gilles Deleuze e in particolare il volume Deleuze interprete di Hume con un appendice su politica e giurisprudenza per Mimesis, recentissimo, uscito nel 2020. E segnalo anche la metafisica di Bradley e la sua ricerca nel primo novecento, sempre per l'editore Cleup. Oggi ci parlerà del trascendentale e non so nulla dell'intervento, mi limito a citare il titolo, la contemporaneità del trascendentale. Quindi ringrazio il professor Rametta. Non so se Giovanni vuole fare i saluti in veste di direttore della rivista, se no do direttamente parola al professor Rametta che ringrazia ancora. No, io ringrazio, beh, tanto Gaetano per essere qua con noi, ma ringrazio voi per aver organizzato questa cosa, ringrazio anche chi ci sta aiutando dalla regia, questa è una cosa molto preziosa, e niente, mi limito davvero solo a questo. Grazie. Gaetano, a te la parola dunque. Grazie Giovanni, grazie Alberto, grazie agli amici di Philosophy Kitchen per questa iniziativa che spero possa essere proseguita anche da altri incontri, da altre occasioni di discussione. Io procedo allora con una piccola premessa, toccando alcuni punti che spero di riuscire a sviluppare durante l'intervento e che eventualmente potranno essere integrati dalla discussione. Prima di tutto, ecco, dico che sospendo deliberatamente i riferimenti alla storia della filosofia. Intendo presentare una proposta di carattere teoretico e, d'altra parte, sicuramente i riferimenti storico-filosofici del mio discorso sono facilmente identificabili ed eventualmente li potremo recuperare ed esplicitare in sede di dibattito. Ecco, questa mi pareva una premessa indispensabile. Allora, come incipit vorrei illustrare proprio in termini, come si dice, puramente tetici, cioè in forma in qualche modo proposizionale, i punti nodali della mia argomentazione. La mia convinzione è legata alla praticità del trascendentale come esperienza innanzitutto di pensiero. Potremmo schematizzare questo tipo di posizione in forma, diciamo, sillogistica elementare dicendo che se il trascendentale è atto di pensiero non può che essere perciò stesso pratico, non può che esprimere un nucleo immanente di praticità. Tengo particolarmente a questa, diciamo, piccola premessa perché a questa premessa si accompagna quello che cercherò di mostrare nell'intervento e eventualmente anche nel contributo che mi auguro di poter presentare in uno dei numeri prossimi della rivista Out Out, cioè l'idea che non si danno pratiche che non contengano a loro volta un nucleo di trascendentalità, cioè che non siano modi di espressione del trascendentale. Questo, a mio avviso, è molto importante perché dovrebbe permettere anche di determinare concettualmente quali classi di azioni possono rivestire il significato di pratiche, essendo il termine pratiche soggetto a fortissima inflazione dal punto di vista dei suoi impieghi e quindi credo che esplicitare questa connessione tra il concetto di pratiche, l'idea del pratico e il nucleo pratico del trascendentale possa essere utile per una determinazione dei concetti e in particolare del concetto di pratiche. Allora abbiamo detto se è atto di pensiero il trascendentale è perciò stesso pratico. Proviamo a fare un passo in avanti e riprendiamo dall'ipotesi che il trascendentale sia atto evidentemente se si determina come atto non potrà che determinarsi come attuale. se dunque è attuale sarà perciò stesso contemporaneo. Dall'attualità del lato di pensiero mi pare si possa ricavare l'idea che implicito al trascendentale sia una dimensione di contemporaneità. Qui però io scrivo contemporaneo tendenzialmente col trattino è un vezzo anche questo fin troppo scontato ma lo faccio per una ragione che dirò fra poco. Intanto un primo punto su cui fare attenzione determinare il trascendentale come atto di pensiero non significa eludere l'esperienza della passività nell'esercizio del pensiero stesso. Parlare di attualità infatti non significa parlare di volontarietà. credo che questo sia uno dei fraintendimenti più gravi a cui sia stata sottoposta la tradizione del trascendentale e in generale la tradizione di matrice idealistica. La determinazione come attualità come atto se volete perfino come attività dell'esperienza del pensiero non significa rimuovere la dimensione della passività perché ripeto sottolineare l'elemento dell'attualità non significa teorizzare la volontarietà dell'atto di pensiero stesso. Qui si apre una problematica che però oggi non credo che riuscirò ad affrontare la problematica della coscienza intesa come campo trascendentale una teorizzazione che ha avuto particolare fortuna nel corso del Novecento a partire dal saggio di Sartre sulla trascendenza dell'ego fino agli sviluppi più recenti della fenomenologia e qui penso alla posizione di un fenomenologo come Aaron Gurvitz che è attualmente oggetto di studio da parte di Simone Aurora. La mia attenzione però vorrebbe rivolgersi a una seconda avvertenza. Io ho insistito o ho perlomeno indicato come nesso in qualche modo non dico scontato ma facilmente derivabile dall'idea del pensiero come atto dicendo che il pensiero il trascendentale che l'esperienza di pensare reca con sé da luogo da luogo a una dimensione di contemporaneità e qui allora emerge il motivo per cui io vorrei sempre sottintendere un trattino che collega ma anche separa il con dal temporaneo contemporaneo perché insisto su questa separazione perché dire contemporaneo non significa dire simultaneo credo che questa sia una differenza capitale concettualmente che ha delle implicazioni non solo di tipo teoretico ma anche di tipo filosofico politico dire che qualcosa è contemporanea dire che il trascendentale come atto di pensiero implica una dimensione di contemporaneità proprio legata al fatto che in quanto atto si sprigiona come attuale non significa che in questo modo si affermi una dimensione di simultaneità ecco allora perché è importante distinguere tra attualità e passività nell'atto di pensiero la relazione tra attualità e passività produce infatti una sfasatura interna nell'atto del pensiero stesso ed è in questo modo che se il trascendentale è costituito da questa costellazione di concetti che cerco di spiegare significa che il trascendentale è anche quell'esperienza di un contemporaneo che è per principio irriducibile a simultaneità qui emerge la centralità di quello che è sicuramente uno dei tratti distintivi più importanti nella nozione di trascendentale cioè l'elemento dell'autoriflessività nell'autoriflessività che cercherò spero di riuscire di avere il tempo di spiegare nel corso della mia presentazione all'interno della nozione di autoriflessività noi cogliamo non solo una cifra costitutiva nella nozione di trascendentale ma accogliamo anche il potenziale di criticità interno all'atto di pensiero interno all'esercizio del pensiero in quanto contemporaneo ecco criticità rispetto ad ogni forzosa riduzione che pretenda di ricondurre il contemporaneo a simultaneità che pretenda di assimilare contemporaneo e simultaneo in questo senso noi possiamo ricavare un altro elemento cioè la politicità immanente all'atto del pensiero se io ho cercato di mostrarlo in un saggio pubblicato qualche anno fa sulla rivista filosofia politica in un numero monografico che era proprio dedicato al contemporaneo e cercavo dicevo di mostrare come se possiamo approssimativamente parlare di età presente ecco forse dal punto di vista del profilo della temporalità la nostra è l'età che pretende di azzerare la multidimensionalità del tempo all'interno di un appiattimento nella dimensione della simultaneità tutto deve essere sempre presente a tutto ecco allora in questo senso se il trascendentale reca al proprio cuore l'esperienza della contemporaneità cioè di quella sfasatura che è costitutiva del suo prodursi come attuale è chiaro allora che il trascendentale si declina in termini di filosofia politica per usare un vecchio termine passato di moda come vera e propria critica dell'ideologia nella misura in cui noi possiamo o potremmo qualora si accettasse questa mia ricostruzione determinare l'ideologia del presente come apologia del simultaneo e a me qui viene in mente quello che Lacan definiva in un suo seminario il discorso del capitalista in quanto si regge sull'imperativo del godimento il tu devi godere come sintomo e simbolo di questa forzosa riduzione di ogni multidimensionalità dell'esperienza nell'appiattimento della sua pretesa simultaneità questo è un po' lo schema che mi par già di capire non riuscirò a sviluppare nella sua interezza comunque intanto provo a determinare attraverso uno sviluppo discorsivo i punti che ho cercato ora di elencare allora rispetto al trascendentale per determinare ulteriormente questo concetto propongo di scandirlo su tre piani come costitutivi del trascendentale stesso il piano del pensiero il piano dell'esposizione e il piano della comunicazione come insegnamento piano del pensiero e piano della comunicazione come insegnamento trovano il punto nodale del loro intreccio e della loro disgiunzione proprio sul piano della esposizione quindi c'è una connotazione linguistica e comunicativa che permette di determinare sia la prestazione del pensiero sia l'esperienza dell'insegnamento come pratica di comunicazione l'intreccio multiverso e variabile di questi tre piani costituisce l'esperienza del trascendentale come instaurazione di contemporaneità quindi la contemporaneità del trascendentale si determina attraverso la disgiunzione e l'intreccio di questi tre piani del pensiero dell'esposizione e dell'insegnamento in questo modo le componenti elementari della nozione di contemporaneo con temporaneo appunto col trattino rinviano ciascuno ad un elemento ad un aspetto che è altrettanto costitutivo di questo concetto per come lo intendo io il con del contemporaneo rinvia alla dimensione della comunità del collettivo che si costituisce nell'attualità del trascendentale come dispiegamento dei tre piani di cui ho parlato prima e l'altro elemento dato dalla dimensione della temporaneità il con temporaneo presenta l'elemento delle circostanze in cui il trascendentale si costituisce e si instaura come esercizio di pensiero in atto noi dimentichiamo troppo spesso che all'interno della dimensione del trascendentale figura un elemento che è esplicitamente dichiaratamente aleatorio cioè contingente indeducibile sotto il profilo logico sillogistico dimostrativo e questo elemento di contingenza e di aleatorietà a me appunto sulla scorta del Deleuze interprete di Hume piace determinarlo come circostanze le circostanze può darsi che Sartre avrebbe parlato di situazione ma l'idea di circostanza mi piace ancora di più perché indica una pluralità cioè indica come questa dimensione di contingenza e di aleatorietà sia a sua volta in qualche modo sur determinata allora il trascendentale come contemporaneo trova in questo intreccio tra una comunità che si instaura nella pratica dell'insegnamento e in quel contenuto di pensiero che si dispiega sul piano dell'esposizione il luogo determinato in cui si esercita la dimensione e l'esercizio dell'autoriflessività che già prima ho determinato come uno dei tratti distintivi del trascendentale stesso cosa significa autoriflessività che il concetto che viene esposto nella pratica dell'insegnamento è ricondotto a sua volta a una interrogazione che è volta a determinare le condizioni di possibilità che hanno presieduto alla sua creazione quindi il concetto non si espone mai assumendo una diciamo così postura di tipo dogmatico e assiomatico il concetto nel momento in cui si espone sul piano della comunicazione e insisto non è una comunicazione qualunque è una comunicazione nobilmente didattica perché è questo che fa sì che la comunità che si instaura sia specificamente segnata dall'elemento filosofico non è una comunicazione qualunque non è la comunicazione della discussione pubblica non è il dibattito è quella specifica esperienza di pensiero e di comunicazione che si determina nelle circostanze di un insegnamento allora all'interno di questo che capite bene non può che dispiegarsi come una pratica nell'attualità del suo esercizio e delle circostanze aleatorie che non vanno interpretate come delle funzioni di limitazione ma delle condizioni di possibilità positive allora all'interno di questo contesto il concetto si pone sempre come al tempo stesso problematico il concetto è la figura determinata che assume la dimensione del problema questo è un altro elemento imprescindibile se vogliamo parlare di filosofia trascendentale il concetto è articolazione di un problema che rilancia la possibilità di porre nuove domande cioè la domanda sullo statuto del concetto che si è appena presentato nel corso dell'esposizione classicamente la messa in questione delle condizioni di possibilità del concetto stesso ora è evidente che questo elemento di autoriflessività è al cuore della criticità immanente all'esercizio della filosofia trascendentale il problema non è posto come qualcosa che non riguarda le modalità attraverso le quali il problema viene formulato ma investe la formulazione del problema stesso e dunque l'inevitabile carattere di esercizio di pratica e di creatività che è inseparabile dalla filosofia intesa come filosofia trascendentale allora in questo senso insisto il trascendentale non è contemporaneo non è contemporaneo a qualcosa di altro non è contemporaneo a qualcosa di differente da sé ma non è contemporaneo neanche rispetto a se stesso per il semplice motivo che il trascendentale inaugura il contemporaneo instaura il contemporaneo nel momento in cui instaura e dispiega quei tre piani intrecciati e divergenti intrecciati e contemporaneamente disgiunti di cui parlavo prima piano del pensiero piano dell'esposizione piano della comunicazione come insegnamento allora qui naturalmente dobbiamo chiarire un punto al mio avviso altrettanto decisivo cioè dobbiamo chiarire il significato da dare alla parolina auto cosa vuol dire auto quando figura all'inizio del concetto di autoriflessione è evidente che sarebbe radicalmente fuorviante interpretare questo auto come l'instaurazione di una identità come il ripristino o l'affermazione di una identità in questo auto della riflessività noi dobbiamo invece cogliere l'apertura di una differenza l'esperienza di uno scarto che si produce costantemente tra l'elemento del pensiero e l'elemento del pensato tra l'attualità e la passività nell'esercizio del pensiero e questo scarto questa differenza disloca radicalmente l'esperienza del trascendentale da una prospettiva di carattere ontoteologico metafisico e perfino rispetto alle filosofie dell'origine che pure tanta parte hanno avuto nel pensiero contemporane allora a me pare che possiamo delineare diciamo alcune sequenze no in particolare due sequenze per così dire parallele e radicalmente distinte e differenti l'una dall'altra la dimensione del simultaneo come affermazione forzosa di una identità che si dispiega sul piano della sua effettuazione reale che si pretende insomma effettuale e che si determina nel contemporaneo senza trattino nel discorso del capitalista per intenderci come simultaneità come riempimento come saturazione cioè come occlusione di ogni spazio per immaginare altre possibilità altri mondi possibili l'elemento del contemporaneo aperto dal trascendentale allora sarebbe invece costituito da una pratica della differenza come differenziazione che si disloca sul piano non più della realtà data come effettuale ma sul piano di una virtualità che si determina al tempo stesso come possibilità e come potenza di creazione e che dunque assume positivamente la contingenza della sua temporaneità assume positivamente l'elemento aleatorio che vincola questa potenza di creazione è un contesto di circostanze contingenti allora in questo senso noi vediamo come il rapporto tra filosofia trascendentale e filosofia politica sia un rapporto costitutivo per la filosofia trascendentale ciò non vuol dire che dalla filosofia trascendentale io deduca linearmente delle posizioni politiche o una teoria politica ancora una volta si tratta di dispiegare un campo di possibilità che però è evidentemente contrassegnato da una presa di distanza cioè da una criticità nei confronti di tutto ciò che vuole schiacciare il virtuale sull'effettuale e il contemporaneo sul simultaneo e ancora una volta allora si tratta di affermare la disgiunzione tra i concetti di contemporaneità e quelli di simultaneità allora se la dimensione del temporaneo aleatorio che si accompagna a un con che è legato a una alterità che può essere costituita dagli interlocutori di un discorso come pratica di insegnamento oppure che può essere appunto quello della molteplicità delle circostanze all'interno delle quali il mio discorso si sviluppa in ogni caso un temporaneo che venga assunto a condizione costitutiva per la creazione di concetti non è più una condizione incompatibile con l'eternità il temporaneo diventa funzione per la creazione di concetti che in quanto tali si ribellano alla legge del tempo se per tempo intendiamo quella successione cronologica che uccide tutto ciò che si affaccia all'esistenza dicevo che non volevo fare riferimenti storico filosofici ma uno lo voglio fare perché anche se ho letto penso tutto Marcuse ma non ho letto quasi nulla di Marcuse per cui su Marcuse per cui non so se gli interpreti accreditati di Marcuse lo abbiano segnalato a me non è giunta notizia di questa segnalazione ma non è importante Marcuse nelle battute finali di un suo libro molto vecchio e molto dimenticato anche se ha avuto molto successo qualche decina di anni fa Eros e Civiltà vede nel tempo inteso come tempo cronologico il simbolo più eclatante del dominio perché il tempo inteso come scorrimento cronologico uccide la vita ed è dunque l'immagine più potente e più disperante di un dominio che non lascia scampo alla sua presa e l'aspirazione all'eternità è per Marcuse il primo atto di ribellione il rifiuto di finire ma non come ottusità che vuole persistere inerzialmente nell'esistenza no questo rifiuto si determina in chiave di creazione cioè di produzione di simboli e concetti che rifiutano di subordinarsi alla legge del tempo e che lottano per non morire non perdurare attenzione non è l'immortalità come durata ma è appunto l'eternità come attimo immenso avrebbe detto Nietzsche come singolarità che non muore qui poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sul rapporto tra filosofia e storia della filosofia che evidentemente non è questa la sede per sviluppare però allora e qui chiudo è chiaro che se la modalità filosofica di instaurazione di una forma di eternità è la creazione di concetti è chiaro che a mio avviso il compito della filosofia e di chi cerca in povertà di mezzi di esercitare la filosofia starebbe proprio nella necessità di rideterminare il concetto di concetto cioè di rideterminare il concetto di concetto oltre il progetto idealistico che è inaggirabile se vogliamo parlare di filosofia trascendentale dicevo rideterminare il concetto di concetto al di là del progetto idealistico che aveva l'ambizione come sappiamo di instaurare la filosofia come scienza dottrina della scienza o scienza della scienza o sapere del sapere nel caso di Fichte sistema enciclopedico delle scienze nel caso di Hegel ma in ogni caso connessione stringente tra piano del concetto e piano della scientificità della filosofia noi sappiamo che in direzioni diverse certamente tutti i grandi filosofi credo abbiano cercato dopo l'idealismo di rideterminare in qualche modo la nozione del concetto filosofico freghe da una parte ma sono diciamo banalità storico filosofiche quelle che sto dicendo più vicini a noi Deleuze nel libro Che cos'è la filosofia ci fornisce una teoria anti-hegeliana del concetto ecco forse però appunto si tratta di andare ancora oltre per vedere se siamo capaci di categorizzare in modo nuovo il concetto di concetto mantenendo quella che a mio avviso deve restare come tratto distintivo ineludibile della filosofia cioè il suo essere pratica trascendentale di creazione di concetti io mi fermo qui sono anche stato nei tempi vi ringrazio per l'attenzione come si dice in questi casi grazie infinite perfetto un applauso udibile ma vedo che è condiviso sì siamo con i tempi siamo perfetti quasi 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 da manuale quindi direi che ecco possiamo direttamente aprire le domande so che il professor D'Alfonso forse deve abbandonarci prima quindi le dito la parola al professore così poi è libero di andare se ne deve prego grazie grazie mille scusate la doppia prepotenza quella appunto di andare via prima e quella anche appunto in forza di questo di prendere anche per primo la parola e non ascoltare l'intervento degli altri me ne scuso ma appunto in realtà ho una domanda urgente che riguarda il concetto di simultaneo che non avevo ancora incontrato nelle conversazioni delle interlocuzioni negli interventi di Gaetano Rametta che mi sembra che all'interno della diciamo economia del suo discorso della sua proposta di appunto trascendentare soprattutto questa declinazione di luogo insorgente della contemporaneità appunto si nutre di questa anche contrapposizione a questa diciamo appunto categoria per me ad oggi inaudita e quindi è una domanda per capire nel senso una domanda per sapere esattamente che cosa caratterizza questo diciamo che cosa viene caratterizzato intrinsecamente da questa concettualità così specifica grazie grazie Matteo per la domanda allora non è per narcisismo ma ecco insisto nel rinviare al saggio che menzionavo prima che si intitola temporaneità che credo si trovi anche in rete credo che ho pubblicato se non ricordo male nel 2017 su un numero di filosofia politica che era dedicato proprio alla questione del contemporaneo rinvio a quel testo perché qui posso evidentemente rispondere in modo solo approssimativo che cosa cercavo di intendere in quel testo e nel discorso di oggi cercavo di intendere quella specifica esperienza del contemporaneo che la società della comunicazione informatica e virtuale sta imponendo su scala planetaria per così dire al giorno d'oggi per semplificare da che cosa è caratterizzata la onnipervadenza della simultaneità dall'azzeramento di ogni dimensione virtuale ma come? ma non siamo nell'epoca della comunicazione virtuale noi adesso non siamo in presenza virtuale appunto ma questa virtualità si presenta sul piano della effettività cioè si presenta come virtualità attuale nel senso di dotata di realtà empiricamente data il virtuale nel senso della potenza che si determina visto che non ho mai fatto nomi o quasi mai nel fermo nel concetto di potenza o di facoltà in fichte o nel virtuale per come è determinato in logica del senso di Deleuze è esattamente ciò che viene in spunto nel contemporaneo senza trattino dove tutto deve essere sempre presente a tutto e dove questa onnipresenza di tutto a tutto si determina poi nell'imperativo del godimento proprio del discorso del capitalista tu devi godere devi consumare devi affermare la tua unicità in qualunque modo questa si declini questo è l'azzeramento più radicale di ogni dimensione di virtualità intesa come piano radicalmente trascendentalmente altro rispetto al wirklich rispetto a ciò che si dispiega nell'attualità del presente come simultaneità di tutto a tutto allora ciò che si determina come virtuale è per me oggi la forma di una saturazione radicale di tutti gli spazi autenticamente cioè trascendentalmente virtuali che nella misura in cui il virtuale si determina tecnologicamente come attuale vengono liquidati drasticamente vengono letteralmente espunti dall'orizzonte del possibile non solo dall'orizzonte del reale effettuale allora in altri termini è l'ossessione dell'attualizzazione l'ossessione dell'effettuazione che io intendo come simultaneo e che a mio avviso è la corposa figura contemporanea dell'ideologia è la forma contemporanea dell'ideologia come apologia del simultaneo per questo il contemporaneo col trattino è dirompente rispetto a questa logica e per questo c'è una matrice potenziale di pratiche politiche all'interno di questa nozione di con lineetta temporaneità non so se ho risposto sì a me senz'altro davvero grazie perché chiarito molto e poi adesso andrà a vedermi chiaramente l'articolo mi sono perso le tue produzioni del 17 18 evidentemente ma in parte me le sono persi anch'io se ci sono altre domande direi che potete intervenire direttamente o tramite chat come volete cioè potete prenotarla sulla chat e io poi vi do la parola oppure la potete fare direttamente togliendo attaccando il microfono scusate posso? sì grazie approfitto c'è un attimo gli altri si stanno preparando allora intervengo subito grazie intanto a Gretano per questa bellissima relazione nel mio intervento non ti farò domande e non esporò critiche perché le cose che hai detto sono cose che condivido assolutamente alla lettera parola per parola quello che dirò qui ora brevemente espone però una leggera differenza di toni forse rispetto al modo in cui hai esposto la questione trascendentale quindi in qualche modo cercherò appunto di essere breve perché le cose che dico riassumono quelle che dirò poi nel mio intervento alla fine tra tre interventi quindi quando ci vediamo per la terza volta a me preme sottolineare l'aspetto che tu hai ben mostrato dell'intreccio tra la dimensione empirica e la dimensione trascendentale se no non avrebbe senso parlare del trascendentale come pratica se c'è una dimensione pratica è perché la sfera trascendentale quindi la sfera in cui si danno i concetti e questi si creano è una sfera intaccata da quelle pratiche tra le quali c'è anche quella che porta alla creazione appunto di concetti come tu hai ben esposto a me preme ecco qua forse una differenza tra la mia posizione e la tua si dà in questo io sottolineerei di più un aspetto che tu hai comunque trattato e al quale hai dato il giusto peso l'elemento dell'enciclopedia l'elemento cioè del fatto intendendo come enciclopedia istituzionalizzarsi dei saperi anche nel loro trasmettersi no dalla scuola elementare al dottorato ai corsi universitari eccetera ecco questa dimensione dimensione enciclopedica dimensione in cui cioè il sapere tutti i saperi che hanno la forma di scienza ecco ben inteso non l'astrologia l'alchimia ma i saperi che hanno la forma di scienza non perché l'astrologia e l'alchimia siano cose poco serri ma semplicemente perché non li prendiamo in considerazione nel loro valore istituente in relazione a pratiche di libertà politicamente rilevanti nel moderno questo è il punto dopodiché uno liberissimo di andare dall'astrologo eccetera a trarre anche profitto per carità perché no i saperi che si danno come istituzioni che si sedimentano nell'istituzione che quindi insomma fanno stanno dentro l'architettura enciclopedica sono saperi intaccati dalla pratica che li produce e sono intaccati anche da altre pratiche che non ha niente a che fare con il sapere perché si dia università si deve dare uno stato sovrano che fa delle leggi in base alle quali si stabilisce chi insegna cosa con quali criteri i concorsi universitari e tutte queste robe qua poi ci sono i case editrici i convegni le riviste di filosofia nel nostro caso insomma c'è tutta una macchina che non ha nulla a che fare con la produzione del sapere che però si irrita per dirla con l'uman la macchina di produzione del vero da questa reciproca irritazione tra più macchine che producono discorsi che producono comunicazione nel contesto sociale da questa irritazione emerge il piano trascendentale il piano trascendentale non può staccarsi da queste macchine discorsive tra all'interno delle quali si colloca la macchina che più lo riguarda la macchina enciclopedica perché è lì che ha senso parlare di teoria di condizioni di possibilità del vero del sapere della scienza eccetera ecco arrivo al punto questo aspetto che ripeto credo tu abbia ben presente perché l'hai toccato a me fa dire che si deve anche poi prendere in considerazione il fatto che il concetto nel suo darsi nel suo prodursi a qualunque livello della discorsività scientifica deve ospitare ciò che comunque ospita anche se non lo vuole cioè l'elemento metaforico l'elemento banalmente narrativo perché a meno che tu non costruisca teorie puramente formali tu comunque dovrai tener conto di un elemento che come dire rimanda alla natura spuria banalmente corporea degli atti di produzione della concettualità questo ecco un aspetto che mi premeva sottolineare ma che ripeto è solo una diversità di accenti ecco tu credo l'abbia l'abbia detto comunque bene ultimissima cosa ma sempre in relazione alla dimensione dei corpi che devono essere tenuti presenti nella produzione del concetto no? usserlianamente per usser il soggetto trascendentale è l'intersoggettività e cioè l'incontro tra corpi in un mondo condiviso no? in questo senso io quando parlo di godimento preferirei forse questo è il mio suggerimento preferirei riferirmi alla declinazione freudiana e non tanto lacaniana del godimento per declinazione all'interno della quale insomma deve essere chiaro che il godimento è in primis è unicamente godimento sessuale perché? perché in questa maniera si conserva meglio la valenza disruttiva non saprei come dire non direi rivoluzionaria no? ma comunque insomma la valenza di rottura che ha l'atto corporeo sessuale per Freud è chiarissimo che ogni ordinamento sociale qualunque ordinamento sociale tra primati comporterà una qualche una necessaria eliminazione del libero esercizio della sessualità per cui gli umani quando si incrociano col proprio godimento quando fanno esperienze di godimento assaporano una sospensione dell'ordine sociale che avrà grandi valenze rivoluzionarie ma potrebbe ma le ha dita però le ha dita questo sicuramente perché è lì che si dà comunque una sospensione del collettivo e dei suoi vincoli perché ogni collettivo è vincolante ogni collettivo è marcusialmente repressivo si potrebbe dire questo denominato marcusi ma insomma comunque pone le regole no? se fosse ipotizzabile un mondo senza leggi non credo lo sia ma immaginarselo ci serve a criticare però anche qua qua entra in scena il trascendentale no? l'interazione sulle condizioni e possibilità se ci interroghiamo su un mondo senza leggi lo mettiamo come luogo dell'utopia o addirittura come ideale regolativo pensa a Rothbard una certa tradizione liberale di matrice hayekiana se facciamo quest'operazione che in fondo è un esperimento mentale acquisiamo quello spazio concettuale in virtù del quale installandoci nel quale possiamo criticare la legge attuale l'ordinamento presente nel caso che questo non ci vada bene per qualche ragione no? perché per esempio che ne so troviamo i lockdown fastidiosi tanto per fare un esempio a me caro no? ecco qualunque sia la ragione per la quale noi troviamo l'ordinamento presente la proprietà privata indifferente no? il fastidioso ecco vuol dire che noi da qualche parte abbiamo immaginato uno spazio in cui questa l'ordinamento legale è sospeso ecco a questa sospensione i corpi additano con il godimento sessuale ecco e questo ci dà una visione della faccenda che non è proprio quella lacaniano-shizechiana per cui sarebbe in realtà il capitalista che ti ordina di godere perché io dico sei contento e non fai la rivoluzione no? e ti è contento di andare nel mall al sabato quando li riapriranno ecco sottolineerei ecco questo aspetto qua non dimenticherei la nozione di godimento intesa come strettamente come godimento sessuale che troviamo in Freud e non in Lacan mi taccio dunque ma in effetti come ti ringrazio Giovanni per questo apporto come hai detto tu appunto non erano domande era diciamo un un supplemento di intervento per cui onestamente chiedo Alberto se è il caso che io aggiunga qualcosa oppure oppure no perché chiaramente qualcosa da aggiungere ce l'avrei ma e beh allora sì se c'è no nel senso che io qui allora Giovanni ne approfitto per esplicitare alcune alcune forse perplessità no a partire proprio da quest'ultima non so se sia il caso di ingolfarsi in una discussione sul rapporto Freud e Lacan però credo che nel contemporaneo senza trattino la sessualità sia proprio una funzione specifica dell'assetto del dominio contemporaneo cioè è difficile immaginare una apologia della sessualità più forte di quella che ci viene propinata da tutti i mezzi di comunicazione di massa e non di massa cioè se non è questo l'imperativo lacaniano del godimento e quindi se non è questo un esercizio di neutralizzazione e in fondo anche di repressione sociale non saprei dove altro trovarla sinceramente perché quando quello che tu chiami il godimento sessuale diventa l'ossessione nella vita delle persone beh questo implica già una funzionalizzazione ad assetti di dominio economico politici di dominio o ad assetti appunto di dominio economico politico che sono quelli del presente che si spaccia come effettuale perché io non posso godere facendo filosofia cioè in fondo un pensatore come Deleuze che viene sbandierato come l'apologetta del godimento a tutti i costi se noi leggiamo bene differenze e ripetizione lui ci sta dicendo esattamente questo cioè la rimozione della pulsione sessuale quando non è effetto attenzione di una sottomissione al dominio è condizione di produzione di creazione simbolica e concettuale la pulsione di morte può può non deve può in certe condizioni esercitarsi come condizione di creatività se uno mi dice che io sto sublimando le mie pulsioni sessuali e dunque faccio filosofia opera una castrazione potentissima sulla mia vita perché mi sta dicendo che facendo filosofia io sono uno sfigato perché non godo sessualmente mentre io devo godere sessualmente per affermare veramente ciò che sono e d'altra parte questo discorso come sai meglio di me per carità è un libro per molti versi discutibile ma Foucault in fondo quando scriveva la volontà di sapere suscitando lo sconcerto di Deleuze e Gattari io ricordo mi pare appunto una non ricordo più se una lettera una comunicazione in cui Deleuze diceva ma cos'è successo cos'è successo a Michelle beh ma Michelle forse qualcosa stava capendo in realtà stava muovendosi lui che era tutt'altro che un seguace di Lacan però ponendo il problema di questa necessità di godere di questo diciamo sbandieramento del desiderio come sostanzialmente uno slogan pubblicitario tra mille altri tutti però orientati su questo imperativo godere consumare consumare godere e focalizzando l'elemento del godimento su quello che tu chiami appunto godimento sessuale e che forse vorrebbe essere più un piacere che non un godimento in senso proprio ma in ogni caso rinviamo l'approfondimento della nostra discussione a questo punto al tuo intervento ecco che sono molto curioso di poter ascoltare nella sua completezza l'altro elemento su cui tu ricordo insistevi molto anche a Forlì dove abbiamo ripreso le nostre relazioni no l'elemento dell'enciclopedia onestamente appunto anche su questo io ci ho pensato molto al tuo ragionamento e a quello che hai riproposto oggi e che diciamo ripropongono anche gli amici che collaborano più strettamente con te no ma appunto non vedo la necessità di collegare l'elemento del trascendentale all'elemento dell'enciclopedia non vedo la necessità di questo collegamento per due ragioni che sono esattamente quelle in base alle quali tu invece motivi la necessità di questo collegamento l'istituzionalizzazione e la scienza per me per quello che conta la filosofia non è scienza e non deve tornare a pretendere di essere scienza per quello prima dicevo compito compito per casa per il domani ripensare lo statuto del concetto oltre la correlazione tra concetto e scientificità che è un'eredità corposa della filosofia classica tedesca e da questo punto di vista io mi trovo a concordare con quei tentativi che sono il primo a valutare insoddisfacenti di mantenere la specificità della filosofia come creazione di concetti separando la pratica filosofica da ogni pretesa di ricostituirsi in termini di scientificità cioè non è più a mio avviso quello il problema ma il problema è di rideterminare lo statuto del concetto al di fuori e oltre la pretesa comunque determinata di una scientificità del discorso filosofico penso però di aver detto prima l'altro la filosofia debba diventare scienza se posso no allora ho fra il te tu l'hai collegata tu l'hai collegata all'elemento dell'enciclopedia e hai se non ho capito male collegato ma insomma se ho frainteso mi dispiace ma al di là diciamo del mio fraintendimento ecco colgo l'occasione per precisare ulteriormente qual è la mia posizione qual è la mia posizione e l'altro elemento che io trovo arrischiato è l'elemento dell'istituzionalizzazione su cui tu mi pare ha insistito adesso al di là dei miei eventuali fraintendimenti però ne approfitto per cercare di determinare qual è la mia posizione perché della tua poi parleremo meglio quando quando ci illustrerai la tua la tua la tua posizione quindi potremmo capire e anch'io potrò capire meglio in che senso tu ti poni rispetto alla questione dell'istituzione perché adesso sta diventando di moda parlare dell'istituzione sono usciti numeri di rivista ci sono libri che parlano del pensiero istituente eccetera io sono molto perplesso sinceramente su questa nuova apologia dell'istituzione a meno che noi non determiniamo rigorosamente il senso dell'istituzione nello specifico empirista iumiano dell'esiano ma quella istituzione lì mi pare che abbia gran poco a che fare con le istituzioni all'interno delle quali noi stessi in prima persona volenti o nolenti stiamo lavorando perché l'istituzione che si va affermando è funzione del dominio dell'amministrazione è quello che Stigler purtroppo scomparso prematuramente chiama o chiamava governamentalità algoritmica proceduralizzazione standardizzazione crediti ore corsi ore studio questa è l'istituzione universitaria che si sta imponendo e che temo si sia già ampiamente imposta allora è chiaro che se l'istituzione si effettua in queste forme insomma io lo dico in termini so che siamo su Facebook ma per me quello è il nemico anche se mi dà da mangiare per me quello è il nemico però cioè non è quella l'istituzione che diventa condizione aleatoria per l'esercizio del pensiero quella è l'istituzione che mi pone costantemente dei limiti e non solo i limiti delle circostanze perché un'istituzione che si produce in questo modo è esattamente fatta per eliminare le circostanze non vuole la contingenza vuole la procedura vuole la normazione mi verrebbe da dire usando un vecchio termine calcolistica e tra un po' arriveremo anche a dover studiare come dobbiamo impostare le nostre lezioni magari scandendo anche le porzioni di tempo da dedicare alla premessa allo sviluppo e alla conclusione del nostro ragionamento istituzionalmente accettato quindi qui secondo me c'è un problema gigantesco che varrebbe effettivamente la pena di essere approfondito l'ultimo punto l'ultimo punto è altrettanto importante io ti ringrazio Giovanni veramente non voglio assumere come dire forse nel mio modo di esprimere quello che penso accentuo troppo la dimensione polemica ma in realtà è evidente che noi condividiamo il senso del problema ecco quindi mi scuso se nell'esposizione sono forse troppo posso sembrare eccessivamente appassionato o coinvolto ecco però ne approfitto perché l'altro punto decisivo che tu hai toccato è quello della metaforicità questione evidentemente capitale a cui io ammetto in realtà di aver sempre pensato in modo insufficiente però ecco qui pongo solo il problema il problema no metafora e concetto andiamo piuttosto indietro nel tempo ecco mi chiedo se l'eccessiva insistenza sulla dimensione metaforica non rischi non rischi è un rischio non è un è un'autentica domanda che io pongo non faccia scivolare la filosofia e la storia della filosofia sul piano di una ricca ma in fondo tutto sommato generica storia delle idee questo io vedo come un problema rispetto all'eccessiva insistenza del nucleo metaforico che permia i concetti filosofici che non vuol dire che io non sia d'accordo nella necessità di studiare e di sottolineare l'importanza di questa matrice metaforica però non sto parlando di testo parlando diciamo in generale una eccessiva insistenza sulla matrice metaforica dei concetti secondo me ha il rischio o rischia diciamo di esporsi all'annacquamento della specificità del concetto rispetto ai materiali metaforici di cui il concetto si compone riorientando la storia della filosofia in senso non più teoretico concettuale ma semplicemente come un capitolo per quanto interessante di storia delle idee io ammiro molto gli storici delle idee sono anche molto amico di alcuni fra i più bravi secondo me attualmente in circolazione ma a me non interessa fare storia delle idee perché secondo me filosofia e storia delle idee non sono la stessa cosa se posso Alberto brevissimamente senza che ci mettiamo qua noi a fare dialogo ma io mai sosterrei che c'è una matrice metaforica concettuale i concetti non sono generi naturali come si suol dire hanno la loro autonomia nella sfera dell'idealità che li rende indipendenti dalla dalla sfera metaforica insomma i miei autori di riferimento Derrida e Blumenberg in questo senso sono molto chiari mai troveresti in loro frasi del tipo no frasi in cui si afferma che il metaforico è la condizione di possibilità del concettuale no mi interessa la fondazione trascendentale appunto come oscillazione tra i due poli in questa oscillazione si deve andare in quel polo appunto empirico che la dimensione metaforica immette nella testualità filosofica ma ci tornerò su questo nella serie dei nostri incontri ma ultimissima cosa velocissima sull'istituzione per me l'istituzione è quella roba lì di cui ci parlano i teorici delle organizzazioni o i teorici dei sistemi come l'Human non è un concetto filosofico e anche qua appunto la sfera empirica in relazione alla quale trascendentale si pone nel suo oscillare quando rende conto degli atti di fondazione per cui per me l'autore di chiave Herbert Simon o James Merck sono tutti quelli che studiano la dinamica organizzativa nella quale siamo di volta in volta immersi con buona pace volenti o non volenti voglio dire per cui per me non è in questione il giudizio morale da dare sulle realtà istituzionali nelle quali ci troviamo sono quelle date dalla violenza della storia in qualche modo la violenza o insomma come esemplificavi tu siamo di fronte a violenze secondo me che ci vengono fatte nella nostra attività di insegnamento eccetera però come dire che l'istituzione sia il dato è per me filosofo trascendentale il punto di partenza non modifico l'empirico l'empirico come dire lo posso pensare ma ha una sua cogenza che per me appunto si dà nell'encecopedia grazie alle discipline che me lo offrono per dire così ma davvero mi taccio qua perché sennò finiamo che dialoghiamo solo i due insomma tornerò su questo ovviamente chiedo scusa se ho preso troppo tempo anzi no no grazie se ho preso troppo spazio è la discussione più più discussione polemica c'è più siamo contenti allora io ho delle domande qui in chat prenotate non do indicazioni bibliografiche perfetto non sono un'enciclopedia e non siamo a lezione dunque io avrei una domanda io ne approfitto se non c'è nessuno e poi guardate che la chat è lunga ok avrei una domanda io e poi ne riporterei una che invece ci arriva dalla diretta se possiamo le raccogliamo quelle che arrivano da fuori dalla stanza zoom posso andare se non ci sono impellenti domande la faccio io dato che si trattava di una relazione dal tratto prettamente speculativo chiederei un chiarimento concettuale su un punto sul punto iniziale quando si trattava si parla del trascendentale come scandibile in tre momenti credo di aver insomma è stato abbastanza chiaro per quanto riguarda la dimensione della comunicazione come insegnamento e del pensiero chiaramente mi è un po' più oscura i tratti i caratteri della dimensione dell'esposizione quindi chiedo un chiarimento su questo cioè che cosa si intende per esposizione perché distinguerlo da comunicazione come insegnamento beh diciamo due cose esposizione nel mio ragionamento traduce la parola tedesca Darstellung allora prendiamo la scienza della logica di Hegel la scienza della logica di Hegel non è l'espressione di un insegnamento è un libro che si presenta come presentazione di una scienza che è la logica in quanto espressione di un sapere filosofico che si dispiega nelle modalità del concetto speculativo questa è una modalità di esposizione è una modalità di esposizione che non coincide con l'esperienza dell'insegnamento che è grandiosa per cui ho una passione sviscerata se posso confessare questa debolezza ma che non è legata alla dimensione dell'insegnamento allora invece se io passo a Fichte lì ho una esposizione cioè una formulazione linguistica del pensiero senza naturalmente immaginare che il pensiero stia da un'altra parte rispetto alla sua formulazione linguistica in cui il presentare linguisticamente il mio pensiero è inseparabile dalla comunicazione del mio pensiero all'interno delle circostanze di un insegnamento rinvio a un testo per tutti la seconda esposizione di dottrina della scienza del 1804 dove limpidamente Fichte mostra che il trascendentale si costituisce all'interno della pratica attraverso la quale si comunica e nel comunicarsi si istituisce e nell'istituirsi determina il carattere trascendentale della comunità che va costituendosi nel corso dell'esposizione non a caso però Fichte non ne ha pubblicata neanche una di queste esposizioni perché erano legate alla dimensione aleatoria dell'insegnamento come pratica di comunicazione perché insisto nel legare comunicazione e insegnamento perché la comunicazione dell'insegnamento concepita all'interno di una prospettiva trascendentale non ha nulla a che vedere con la società della comunicazione da cui siamo quotidianamente sommersi ma anche qui diciamo non sto inventando niente basta rileggersi le pagine di Gilles Deleuze sui dibattiti quello che pensava Deleuze delle discussioni filosofiche pura e semplice doxa opinione nulla a che fare con la dimensione dei concetti nulla a che fare con la filosofia lo scambio di opinioni è appunto l'occlusione attivata sul piano della realtà effettuale di quel reale virtuale che è aperto dalla dimensione del concetto allora anche in Hegel c'è evidentemente l'elemento dell'autoriflessività ma cosa cambia rispetto a Fichte cambia la posizione del soggetto dell'enunciazione per usare diciamo delle semplificazioni no? il soggetto dell'enunciazione nella logica di Hegel è interno alla logica di Hegel cioè l'autoriflessività si determina sempre e soltanto sul piano della darstellung sul piano dell'esposizione in Fichte il soggetto dell'enunciazione sporge sull'esposizione non è mai rimangiato dal procedimento linguistico della dimostrazione filosofica non è mai esauribile all'interno dell'esposizione cioè in fondo non è mai esauribile all'interno dell'instaurazione della scienza sono due modelli di scientificità altrettanto potenti che dal mio punto di vista presentano la disgiunzione decisiva all'interno della filosofia classica tedesca e forse ancora all'interno di questa disgiunzione che possiamo non dobbiamo ma è una grande risorsa su cui lavorare anche per usare un termine molto problematico al giorno d'oggi secondo me però ecco credo di avere risposto alla è importante questo elemento linguistico perché consente di determinare anche il concetto di autoriflessività che se no potrebbe sembrare oscurato da un alone mistico perché l'autoriflessività si determina sempre in realtà sul piano del linguaggio e quindi come dire ci sono dei parametri che sono concettuali per determinare il livello epistemologico all'interno del quale si determina l'autoriflessione non è semplicemente l'affermazione di una attività interiore no? si determina sul piano epistemologico per questo che l'elemento dell'esposizione è la chiave in cui si articolano attualità del pensare da una parte e pratica della comunicazione come insegnamento dall'altra grazie chiarissimo ci sono se non ci sono altre domande io leggerei la domanda che ci è arrivata da facebook e poi se ce ne sono altre prova a leggere un po' articolata allora l'autore è Marco Cavaioni e vorrebbe fare una domanda rispetto circa al passaggio della sua relazione allora un attimo la domanda si riferisce al punto riguardante l'autoriflessione nella sua relazione rispetto all'autoriflessione indicava uno scarto la indicava l'autoriflessione come uno scarto tra pensiero in atto pensante e pensato la mia perplessità è la seguente che senso scarto o differenza e come non ho capito in che senso scarto o differenza perché a me sembra considerare come due pensiero e pensato farebbe ricadere il pensiero stesso in virtù di cui si distingue penso che la risposta forse sia già arrivata alla domanda precedente comunque nella distinzione appunto scusate rileggo perché a me sembra considerare come due pensiero e pensato farebbe ricadere il pensiero stesso in virtù di cui si distingue nella distinzione appunto come uno dei due ovvero sia sul piano dei pensati dei quali ciascuno non è altro e nessuno pertanto avendo in sé altro da sé è effettivamente una identità particolata come domanda scusate l'ho letta anche male però credo che la risposta sia molto vicina alla domanda precedente non sono due esatto è lo spazio di un'articolazione che per citare sempre Fichte si determina come schweben come oscillazione tra momenti attraverso i quali noi articoliamo discorsivamente un esercizio che si dispiega in modo evidentemente unitario e che non permette la passatemi un altro termine desueto la reificazione del pensare del pensato come due oggetti come due cose sono sempre momenti che si articolano all'interno di una processualità che è data dall'esercizio in atto del pensare ecco poi io ho usato quella formula in modo in modo così abbastanza incidentale tutto sommato non volevo dare un significato costitutivo ecco e giocavo su il modo in cui Fichte criticava Spinoza quando introducendo un altro elemento che io ho trascurato ma che sarebbe importante seletto in chiave non psicologistica l'elemento cioè della convinzione quando Fichte critica Spinoza dice che in fondo Spinoza è un grandissimo pensatore però non poteva veramente essere convinto della sua teoria perché appunto nella sua teoria lui affermando l'oggettività della sostanza dimenticava se stesso che aveva posto la sostanza come luogo della verità e quindi appunto Spinoza dice Fichte dimentica il suo pensare nel suo pensato che poi come sappiamo è una critica che ricompare anche in Giovanni Gentile quando lui critica Hegel per ragioni tutto sommato analoghe ecco adesso senza aprire la questione dei rapporti tra Fichte Hegel e Gentile ma insomma ecco più o meno credo di aver risposto ecco l'elemento dell'autoriflessività non implica il riferimento a un dato come separato dall'esercizio di pensiero che lo ha prodotto ma è la prosecuzione di quella attività che attraverso il concetto determinato si riflette in se stesse e quindi crea le condizioni per poter generare nuovi concetti altre domande considerazioni interventi sì potrei provare a intervenire sì io vorrei provare a fare una domanda non so quanto pertinente ma insomma ci provo rifacendomi a un cenno che il professor Rometta ha fatto all'inizio dell'esposizione probabilmente marginale ma insomma che mi interessa soprattutto da un punto di vista teorico più che non appunto storiografico c'è quel cenno alla coscienza come campo trascendentale in particolare in una certa ripresa eretica della tecnologia francese citato Sartre e Gurvich ecco potrebbe essere interessante una sorta di differenza che si configura qualora si percorra questa pista rispetto proprio alla concezione del trascendentale cioè anche se appunto i riferimenti autoriali erano marginali ed era più una prospettiva teorica a me pare che per esempio rispetto a un Therese che come noto riprende con la nozione di campo trascendentale senza ego in logica del senso ma come dire saluta con entusiasmo la depersonalizzazione del campo trascendentale in questo caso effettuata da Sartre ma contesta il fatto che Sartre resti legato alla coscienza di fatto allora a me sembra che anche nelle prospettive più radicali della fenomenologia in questo caso Sartre è un buon esempio ci sia una differenza fondamentale nel modo di intendere o probabilmente insomma questa è la domanda il trascendentale cioè in quel testo Sartre depersonalizza la coscienza parla di impersonale aprendo un campo molto importante di indagini spesso viene insomma dimenticato anche se adesso c'è una sorta di quasi renaissance ecco ma in realtà questa depersonalizzazione del campo trascendentale in Sartre già nella trascendenza dell'ego ciò che Deleuze non nota in realtà non corrisponde a una come posso dire deteriorizzazione cioè la coscienza resta per dirla in breve individuata l'impersonale così come Sartre lo espone nella trascendenza dell'ego questo campo trascendentale impersonale resta in qualche misura individuato per quanto ci siano dell'ambiguità in quel testo non mi interessa tanto appunto sapere la posizione su Sartre quanto notare insomma interrogare il professore su questa possibile differenza a me sembra che gli esiti della fenomenologia francese anche quella più radicale almeno in Sartre insomma laddove vanno a appunto pensare un trascendentale diverso in opposizione in parte per esempio a quello serliano continuano a pensarlo in forma comunque individuata Sartre in questo è molto chiaro quando appunto tra i vari argomenti che adotta ecco nel contrastare Husser a un certo punto enunciando quelli che gli sembrano determinare l'ego come un'ipotesi di fatto inutile afferma che non c'è bisogno di pensare l'ego per individuare la coscienza perché la coscienza è già individuata perché è coscienza intenzionale coscienza dell'oggetto e insieme coscienza di sé secondo un'alternativa che poi insomma rimarrà centrale in tutta la la proposta filosofica di Sartre ecco allora mi domando visto che ho notato anche alcune affinità possibili per esempio l'autoriflessività evidentemente retrascendentale se vogliamo anche il tentativo di pensare insieme appunto come uno questo rapporto tra pensiero e pensato ma con se vogliamo una differenza una sfasatura ecco mi domandavo se non ci sia qua una impostazione alternativa che di fatto attraversa proprio la problematica del trascendentale non so se sono stato chiaro dunque provo a rispondere sul piano prima filologico e poi sul piano dell'ultima questione più di tipo diciamo teorico sul piano filologico tendo a credere che Deleuze in realtà si sia accorto del testo che lei citava del fatto che in Sartre la coscienza resta individuata penso che anzi sia uno dei passaggi più importanti per capire la posizione filosofica di Deleuze e la sua incompatibilità in ultima analisi con un trascendentale di matrice diciamo così cantiano fictiana no perché se non ricordo male in quel passaggio di logica del senso il problema che poi Deleuze imputa anche a Husserl sul problema delle sintesi passive e così via è che secondo Deleuze non si può pensare un campo autenticamente trascendentale finché noi continuiamo a determinare questo campo trascendentale come un campo di coscienza perché dice Deleuze secondo me è una osservazione molto importante perché nel concetto stesso di coscienza è implicito il riferimento a una dimensione di autocoscienza cioè se io parlo di coscienza prima o poi devo necessariamente tornare a tematizzare la dimensione dell'autoriflessività quindi il piano dell'individualità della coscienza come individuata si pone a partire dal campo trascendentale quando questo campo trascendentale determinandosi in Sartre comunque come campo coscienziale non può fare a meno di quell'autoriflessività che lo determina e che quindi lo annulla come campo o meglio riduce il campo a mero sfondo su cui si innesta la dimensione dell'autocoscienza come coscienza individuata quindi credo che proprio attraverso la meditazione di quello scritto di Sartre e di altre problematiche più legate a Husserl Deleuze sia condotto diciamo almeno in questa fase del suo pensiero a una soluzione molto drastica bisogna eliminare la coscienza dal trascendentale bisogna eliminare la coscienza dal trascendentale e quindi l'idea di un empirismo trascendentale che poi è una proposta filosofica che tende a svanire nei testi scritti assieme a Gattari ma che in questa fase è forse il concetto dominante il concetto forse che meglio può riassumere la posizione filosofica di Deleuze l'empirismo trascendentale è dato da un trascendentale senza coscienza ed ecco allora il piano della sensazione il piano della destrutturazione della teoria delle facoltà la nozione diciamo dell'intensivo come una destrutturazione radicale di ogni forma di soggettività e così via dal punto di vista diciamo della domanda in senso proprio se non ho capito male io le dico qual è la mia posizione cioè da questo punto di vista potrò sembrare conservatore diciamo ecco però secondo me è impossibile determinare una filosofia trascendentale senza riconoscere una qualche funzione alla dimensione della coscienza si tratta appunto di determinare che cosa intendiamo per coscienza e quale posizione attribuire alla coscienza nella determinazione del trascendentale cioè io credo che il piano della desoggettivazione che lo stesso ultimo Deleuze riconosce come proprio di Fichte cioè nell'ultimo testo di Deleuze l'immanenza una vita tra i pochi autori citati c'è il secondo Fichte cioè il Fichte della guida alla vita beata in cui Deleuze riconosce un antessignano della teoria sartriana del campo di coscienza ma ancora di più riconosce un principio trascendentale impersonale costituito dalla vita assoluta su cui non entro nel dettaglio no però questa vita assoluta è indice di una radicale desoggettivazione del trascendentale che si opera già nel pensiero di Fichte ma che appunto come avverrà per il sartre della trascendenza dell'ego torna poi a perdersi perché Fichte non rinuncia alla dimensione della coscienza ecco da questo punto di vista io invece ritengo che il piano della coscienza nella misura in cui perde ogni pretesa di luogo privilegiato di fondazione e di luogo privilegiato per la costituzione di identità può e deve continuare a giocare un ruolo e una funzione all'interno di una teoria del trascendentale che altrimenti rischia di perdere la sua specificità trascendentale quindi una coscienza non più fondamento una coscienza non più come luogo di auto identificazione soggettiva ma comunque indispensabile in rapporto a quell'esercizio dell'autoriflessività che ripeto non è volontario secondo me Deleuze sovrappone questi due elementi cioè quando lui sente parlare di riflessione secondo me comincia a provare una sorta di allergia una sorta di orticaria no ma ho la sensazione che per lui l'elemento dell'autoriflessività sia necessariamente legato alla dimensione dell'autocoscienza come forma di individuazione del campo trascendentale non è detto che sia così perché nell'esercizio del pensiero che si volge all'autoriflessione io non penso a me come singolo io mi lascio attraversare da un movimento di pensiero di cui non è chiaro se io sia l'autore o sia semplicemente un tramite attraverso cui questo processo si esplica cioè non è non io non decido di compiere un esercizio di autoriflessività è il pensare che si reca in atto che si esercita secondo modalità autoriflessive di cui io a questo punto scritto tra virgolette sono una sorta di tramite cosciente però di ciò che faccio senza necessariamente ascrivermi lo statuto di autore rispetto a ciò che faccio ecco perché nel mio fare ci sono io sicuramente ma non è detto che io sia l'autore ultimo di ciò che si esprime in quello che pure è un mio fare che io riconosco come mio ma di cui non devo necessariamente rivendicare lo statuto di essere l'autore come se fosse un progetto volontario e qui termino questa risposta che penso sia non del tutto oscura con il rinvio a un saggio che secondo me è tra i più formidabili che si siano prodotti nella temperie dell'idealismo tedesco ma che non è stato fatto da un filosofo usando queste classificazioni diciamo evidentemente inadeguate ma da un poeta cioè Kleist Kleist scrive un saggio più o meno intitolato così del farsi del pensiero nel corso della sua linguistica enunciazione è un saggio che lui se non ricordo male dedica alla sorella con cui parlava molto anche di filosofia e lui dice ma sì effettivamente mentre io parlo vedo che nascono pensieri ma non sono io che li fa nascere mi nascono nascono a me nel corso dell'enunciazione linguistica e qui torniamo alla pratica dell'insegnamento nel caso di Kleist non era insegnamento ma forse poteva anche esserlo in ogni caso non è questo l'importante l'importante è che se io determino un nesso di stretta implicazione tra il pensare e l'esporre ecco che paradossalmente ma neanche troppo prima dell'esposizione io non so esattamente che tipo di pensiero andrò a sviluppare cosa vuol dire che io parlo ma forse non sono del tutto l'autore dei pensieri che si esprimono mentre parlo allora è chiaro che non è immediatamente evidente questo nesso ma Kleist era cosciente di dire qualcosa mentre parlava evidentemente sì ma si ritiene l'autore di quello che dice parlando mi pare di no c'è una coscienza ma c'è un decentramento del soggetto c'è una consapevolezza c'è una riflessività ma in cui è irrilevante stabilire chi parla allora in questo senso forse non è necessario espungere la coscienza dal trascendentale per non ricadere in una filosofia della soggettività e così via grazie perfetto comunque siamo alle ore 19 quindi diciamo il nostro tempo è finito però se c'è qualche ultima domanda o qualche considerazione finale eccetera di Lampo ce la possiamo prendere penso come chiosa sì buongiorno io avrei una domanda se posso cercare magari facciamo una cosa breve così sì 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 molto in breve mi ricollego a quello che ha detto il professor Ramette in risposta all'ultima domanda di Stefano Grau ma anche una tesi di dottorato che lei ha diretto che si chiama Noemansi in logica del senso filosofia trascendentale nel Bund Husserl con un appendice su Gil Deleu il lettore di Husserl e nel quale si rifà appunto propone la diretta lei un tre anni fa quattro anni fa non mi ricordo comunque nel quale propone una visione di Husserl che fa leva in particolare sui manoscritti di Bernal e sull'ultima pubblicazione dell'Husserliana che nel frattempo uscita che è Husserliana 43 nel quale viene proposto appunto sia da Husserl e sia poi da una lettura che è quella che è filtrata da Nicholas de Warren una visione dell'Urich nei manoscritti di Bernal che sembra corrispondere almeno questa è la tesi che viene proposta sia accennata in questa tesi di dottorato poi sostenuta con più forza da Nicholas de Warren lei fa riferimento alla tesi di Matteo Settura esattamente sto facendo riferimento Matteo Settura ha pubblicato un libro da questa sua tesi di dottorato l'ho letto infatti soltanto ah ecco perfetto ecco no volevo solo segnalare per chi non lo sapesse che non è semplicemente una tesi di dottorato archiviata diciamo nell'Università di Padova ma che è stata pubblicata poi nella collana la Cleup la storia della filosofia della Cleup ecco solo scusi ma volevo per rendere giustizia a Matteo insomma che ha fatto veramente un bel libro ecco volevo segnalare la presenza di questo libro ecco prego prego scusi no guardi la mia domanda era semplicemente questa se la questione dell'origine manoscritti di Bernau possa identificarsi come quella figura del trascendentale che l'ha identificato fino adesso cioè il fatto che deve essere allo stesso tempo sia non essere a una coscienza ed è questa la critica che abbiamo visto che dello sport a Sartre ma ricollegandomi anche a quello che ha detto a proposito del punto di logica del senso di cui abbiamo parlato c'è appunto anche Gaston Berger che viene citato da Deleuze proprio per rinfacciare la sua interpretazione di come il tentativo di Sartre sia alla fine insufficiente per delineare un trascendentale che sia completamente privo di coscienza mi sembra che lei stia cercando di tenere insieme il fatto che il trascendentale debba in qualche modo far capo alla coscienza ma allo stesso tempo non debba in qualche modo far capo alla coscienza e la soluzione che avanza a settore che avanza anche Nicola Stavoren e che fa leva su Lurich nei manoscritti di Bernal di Husserl sembra poter offrire una soluzione a questo tipo di trascendentale che deve tenere conto io la ringrazio perché lei evidentemente ha già risposto alla sua domanda che era mi pare una domanda retorica è evidente che io ho condiviso in pieno l'interpretazione di Matteo Settura anche se quando mi fanno domande su Husserl e sospendo sempre la risposta perché io delle 550.000 pagine di inediti di Husserl ne avrò lette una decina ecco se va bene per cui sospendo il giudizio sono evidentemente molto d'accordo con la tesi di Matteo Settura ecco se mi permetti una piccola correzione d'altra parte finché sarà possibile sono un professore di filosofia direi non tanto mantenere la coscienza eliminando la coscienza ma mantenere la coscienza riducendo la funzione dell'io quello è il problema non è la coscienza è l'io nella misura in cui l'io è inteso come sostanziale come identico a sé e tutte le cose che sono state dette contro questa vera e propria bestia nera della filosofia del novecento quindi non tanto un trascendentale che tenga la coscienza e elimini la coscienza ma un trascendentale che tenga la coscienza ma senza dover ricorrere alla nozione di io senza necessariamente dover ricorrere alla nozione di io questo è forse il punto insomma ecco ma per il resto mi trovo totalmente d'accordo con lei sì la ringrazio mi scusi per l'imperfezione no ma è la logica sulla cosa ma quello che mi ha detto no no grazie mille e noi saremo arrivati alla fine quindi io non vorrei è sempre brutto chiudere in questi casi quindi se proprio non c'è nessuno che proprio non voglia approfittare della mia debolezza ok non c'è grazie vi ringrazio no vabbè ma auto debolezza perché debolezza no nel senso di continuare a procrastinare la chiusura niente allora non posso fare non posso che dire grazie in questo caso lo diciamo anche se non si usa Padova grazie infinite per la disponibilità e per la bellissima relazione che è stata fatta soprattutto per il fatto che si trattava di una relazione di tipo più speculativo che sono sempre più rare nella quale appunto si manifestano le proprie convinzioni teoretiche più intime e quindi grazie infinite confidiamo nel fatto che anche le altre due relazioni saranno un'occasione simile che ci possa essere dibattito tra i relatori anche in quell'occasione e e niente ecco prendo io la parola per ringraziare prima di tutto Giovanni che è l'artefice di questi incontri vorrei ringraziare te che hai moderato diciamo l'incontro e le persone che hanno avuto la pazienza di restare collegate per più di due ore a parlare diciamo di questioni piuttosto astratte ecco almeno da un certo punto di vista quindi veramente vi sono grato per avermi dato questa opportunità di esprimere in modo più o meno adeguato quello che cerco di pensare ecco grazie veramente e per dovere di cronaca faccio presente che l'idea è di Veronica Cavedagna di tutta questa rassegna per allora grazie grazie anche a il nome qual è Veronica stavo per dire mi ha fatto bene Alberto ricordarlo se va giusto io non centro non sarebbe giusto che mi prenda meriti che non ho ringrazio anch'io saluto benissimo grazie a tutti e a tutti quelli che si sono prenotati riceveranno il link anche dei prossimi incontri bene grazie mille buona serata a tutti ciao arrivederci buona serata a tutti grazie ciao Alberto ciao ciao